Siamo in compagnia di Rup Filtness per introdurre quella che è la settimana che poi porta alla trasferta, un'importante trasferta di Benevento, quindi che vedrà opposta la Dei Optical Virtus Basketball Fetal Benevento. Però prima di questo vorrei partire con Rup, parlando dell'ultima partita, quella discusata domenica scorsa contro il Biceglie. No, il gioco era difficile e ovviamente è difficile perdere nel nostro proprio gioco. Sì, erano eseguiti bene i suoi spazi e hanno scoperto bene il gioco. Sì, abbiamo avuto un gioco difficile e dobbiamo continuare a lavorare ora, durante questa settimana e si concentrano nel prossimo gioco. Ecco, domenica scorsa l'abbiamo chiesto anche al coach, ma anche al capitano, lo chiedo anche a te. Che momento sta vivendo la Virtus dopo queste due partite, dopo queste due sconfitte? Io credo che abbiamo una buona squadra e la nostra squadra ha molto potenziale, ma non abbiamo ancora capito tutto e abbiamo bisogno di continuare a lavorare su questo. E io credo che il coach, il coach è fatto un grande lavoro di spettare a tutti i nostri spettatori e la squadra ha buona chemistica e tutto. E abbiamo bisogno di concentrare sulle cose e cercare di migliore come individuoli e come squadra. E abbiamo bisogno di concentrare sulle cose e cercare di migliore come individuoli e come squadra.